Si grida al miracolo ad acerenza. Il bastone pastorale del patrono San Canio Vescovo si è spostato avvicinandosi alla feritoia ricavata nell'altare che lo custodisce e a notarlo venerdì pomeriggio una donna dopo la celebrazione in cattedrale di un funerale. Da allora decine di fedeli, fra i quali dei sacerdoti e molti curiosi, stanno visitando la cattedrale per osservare il fenomeno dell'avvicinamento del bastone all'apertura che permette di toccarlo, un fenomeno che si sarebbe verificato dopo circa dieci anni dall'ultima volta. Per alcuni i fedeli si tratterebbe di un segnale di buon auspicio e c'è chi intravede in questo fenomeno l'imminente nomine del Vescovo che ad acerenza manca dopo il trasferimento di Monsignor Ricchiuti in Puglia. Questo segnale di adesso che è vicinissimo a noi è un segnale positivo e perché speriamo che arriva presto la notizia che avremo il Vescovo. Adesso che si arriverà il Vescovo, San Canio ha fatto la grazia. Il bastone è nodoso, ad eccezione di primi dieci centimetri poggia su un piano accidentato e ruvido ed è custodito in una feritoia che dopo l'ultimo movimento fu chiusa con uno sportellino e un vetro per decisione dell'allora Vescovo di acerenza ma circa due anni fa è stata riaperta. C'è da aggiungere che il bastone sfiderebbe le leggi della fisica in quanto, fenomeno mai spiegato, a volte si trova in fondo ed è appena visibile all'occhio umano attraverso una torcia elettrica, altre volte invece è così vicino alla feritoia tanto da poterlo toccare con i polpastrelli della mano. Grazie a tutti.